La sonda Juno è stata lanciata il 5 agosto del 2011 e tra pochi giorni, precisamente il 4 luglio del 2016, entrerà nell'orbita di Giove. La sonda porta con sé una placca dedicata a Galileo Galilei. Questa è una copia in alluminio dell'originale manoscritto in cui Galileo ha descritto per la prima volta le 4 lune galileliane, di Giove naturalmente. Ha anche una camera ottica e grazie ad essa avremo la possibilità di vedere le sue tempeste molto da vicino e in dettaglio. Grazie a questa missione potremo osservare il cuore di Giove e quindi capire come sono fatti tutti i giganti gassosi nel loro interno. Juno ci darà moltissimi dati sulla struttura dei giganti gassosi. Adesso vi lascio al trailer che ha preparato la NASA e noi ci vediamo un prossimo video. It's a monster. The scariest thing to me about Juno are the unknowns. So much about the environment that we'll have to withstand is unknown. Nothing's really certain about what's going to happen. It's a monster. It's unforgiving. It's relentless. It's spinning around so fast. It's gravity. It's like a giant slingshot. Slinging rocks, dust, electrons, whole comets. Anything that gets close to it becomes its weapon. It's the biggest and baddest planet in the solar system and it's got the biggest and baddest radiation and the biggest and baddest magnetic field. The background radiation that we're exposed to on Earth is about a third of a rad. What we expect to see at Jupiter is about 20 million rad. No spacecraft has ever flown this close to Jupiter. It's flown this deep into the radiation belts. So the real trick is we're going to go in close, get the data, and then get out. And the first time we go in, that's the most dangerous. We call it Jupiter orbit insertion. J-O-I. Nothing's really certain about what's going to happen.